Ispezioni ad ampio raggio per contrastare l'illegalità diffusa hanno permesso ai poliziotti del commissariato Onesima di Catania di individuare un immobile della zona Cibale all'interno del quale si praticava il gioco d'azzardo e dotato di uno spazio rissoro con tanto di bevande alcoliche che venivano irregolarmente somministrate agli avventori. Una vera e propria bisca clandestina. Effettuate le opportune perquisizioni, i poliziotti hanno eseguito il sequestro penale preventivo dell'immobile e del denaro in contanti di un assegno emesso da un giocatore in favore di uno dei promotori, di carte da gioco fish e della tabella segnapunti. Sei persone sono state indagate in stato di libertà per aver organizzato, amministrato e diretto il gioco d'azzardo e altre cinque per avervi partecipato come giocatori. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale che ha provveduto al sequestro delle bevande alcoliche e combinato le previste sanzioni amministrative. I controlli hanno riguardato anche diverse attività commerciali, tra queste anche un bar il cui titolare è stato indagato per violazione di sigilli, sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, riciclaggio e violazioni sulla salubrità dei luoghi di lavoro. L'uomo infatti ha tolto i sigilli apposti sulle slot machine precedentemente sequestrate dalle forze dell'ordine e occultato il numero seriale di un frigorifero industriale, rendendo difficoltoso individuarne la provenienza. Riscontrate anche condizioni igienico-sanitarie carenti all'interno del locale e violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso dell'attività ispettiva altre 11 persone sono state indagate per vari reati, tra i quali furto di energia elettrica, truffo online, appropriazione in debita per mancata restituzione all'autonoleggio di una vettura alla scadenza del contratto di noleggio e ancora violazione degli obblighi di assistenza familiare, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice omessa a denuncia di munizioni, lesioni personali corpose, minacce e danneggiamento di un'auto a seguito di una lite scaturita dopo un incidente stradale, danneggiamento e minacce nei confronti di un lavoratore di un CAF per il rigetto del riconoscimento dell'eredito di cittadinanza, calunnia ed evasione. Due, infine, le persone restate, che dovranno scontare le pene residue, di nove anni e un mese e una e di un anno e sei mesi l'altra, rispettivamente in carcere e ai domiciliari. Grazie